Abbazia di Santa Maria in Potenza A sud dell'abitato, non lontano dall'area archeologica dell'antica Potenza, sorge un articolato complesso con un antico parco alberato. La struttura, ampiamente rimaneggiata nel corso dei secoli, ha ospitato per lungo tempo un monastero ospedale, retto dall'Ordine dei Crociferi. Fondata verosimilmente tra il 1160 e il 1180, l'Abbazia divenne il principale insediamento dell'Ordine nella Marca e in breve tempo fu dotata di larghi possedimenti. La documentazione attesta che nel periodo a cavallo tra il XII e XIII secolo papi ed imperatori vollero occuparsi direttamente dello stato di benessere dell'Hospitalis Pontis Potenze. Nel 1184